Diego Martelli per Daily Basket Lega 2, siamo con Guido Meini, al finale probabilmente una delle partite più importanti del campionato, vinta. Un commento? Sì, importante sicuramente al fine della posizione regola del season. Poi diciamo quelle partite che contano veramente arriveranno dopo e ora stiamo lavorando per cercare di conquistarci questa eventuale gara 5 in casa che per noi fa differenza perché stasera il pubblico è stato veramente un fattore. Ti ringrazio.